Un soldato prima di partire per il fronte andò in biblioteca e chiese un libro. Era un libro di poesie. Lesse il libro, che ebbe un grande impatto su di lui, ma ciò che lo colpì di più furono i commenti che qualcuno aveva scritto a margine delle pagine. Il libro era stato donato alla biblioteca dalla persona che aveva scritto i commenti, quindi il suo nome e il suo indirizzo erano scritti sul libro. Andato al fronte decise di scrivere a questa signora. Le disse quanto fosse rimasto colpito dal libro, ma soprattutto dai commenti che aveva scritto a margine del libro. Rimase piacevolmente sorpreso quando lei rispose alla sua lettera e cominciarono a corrispondere. Più si scrivevano, più il loro rapporto diventava forte. In una delle lettere le chiedeva di mandargli una foto. Lei rispose che se lui si fosse sentito attaccato alla sua anima e se il suo amore fosse stato vero, non avrebbe avuto importanza il suo aspetto, quindi non gli inviò alcuna foto. Quando la guerra finì e lui tornò a casa, si incontrarono. Per riconoscersi, decisero che lui avrebbe tenuto il libro in mano e lei avrebbe avuto una rosa bianca. Così quel giorno, in una piazza immensa e affollata, un soldato del fronte, libro in mano, cercava una donna con una rosa bianca. Vi rendete conto di quali fossero le sue aspettative? Era sul punto di trovare la sua anima gemella, la donna che amava, ma che non aveva mai visto. Mentre aspettava con eccitazione, vide una splendida ragazza che lo guardava intensamente, vestita con un vestito verde, era stupenda. Era al di là di tutto ciò che aveva immaginato. A un certo punto si diresse verso di lui, ma lui notò che non aveva rose. Invece, vicino a lui, si era fermata un'anziana signora con una rosa bianca in mano. Riesci a immaginare? La splendida giovane donna e la signora piuttosto trascurata, ma con una rosa in mano. Cosa avreste scelto? La persona con la rosa doveva essere la donna che aveva conosciuto bene dalle lettere. Era quella di cui conosceva l'anima. Era quella di cui si era innamorato. Così si avvicinò all'anziana signora con la rosa. Mentre la bella giovane donna si fermò a pochi passi da lui. Lo guardò e gli chiese. Vieni con me, soldato? Il suo cuore era spezzato. Era difficile scegliere. Difficile prendere una decisione. Ci pensò un attimo. Mentre la giovane donna si allontanava da lui, la sua educazione e i suoi giusti principi le imposero di continuare il suo cammino verso la persona anziana che teneva in mano la rosa. Le si avvicinò e le si rivolse. Ciao, non vuoi parlare mentre ceniamo insieme? Poi, stupita dell'invito, la dama con la rosa rispose. Giovanotto, non so cosa stia succedendo qui, ma la ragazza vestita di verde che ti è appena passata accanto mi ha chiesto di tenere in mano questa rosa bianca e mi ha detto che se fossi venuta da me ti avrei detto che ti stava aspettando al ristorante. Non importa in mano di chi sia la rosa, scegliamo con l'anima. La bellezza ha confini profondi. L'equità e la gentilezza premiano sempre.